Perché sta parlando Sebella? La gloria è mia Mancato Così, adrenalina e adrenalina Non si sa come e perché Madonna, quello che è laggiù Se mi aggra tutto Tizio è una ardente Immagino che avete solo attacchi di fuoco ora La fornici danni da poco Aggiuntivi a te stessa e ai tuoi alleati Aggiunge Mamma mia Ma stai scherzando Una bella curata Maledetto Ah ma c'è un altro ancora Cioè quello che è aggrato È un altro Madonna Madonna Ah posso usare anche questa Sì Non sembra subire un attacco di opportunità Se mi sposto Cavolo, quello non aveva l'armatura fisica Questo qual è? Questo qui Fai un po' da esca Anche se ora sparerà qualche colpo che rimbalza Sovrabbite la prima volta Meglio fargli saltare in turno direi Ai Io Mi vorrei Fosse spiegato Perché fanno 4-5 attacchi Qualche volta Così Però Continua a rimanere a terra Penso in me Non ci sono Vabbè, curati un pochino Questo qui lo farei addormentare per ora L'ho risvegliato con Vabbè, pietrificato almeno Sanguine a fuoco Pasce mentale al nano E allora, posso fare Se non ho capito male Allora, anima gemella su Seville Ora, a lei Uno stato di ghiaccio Aspetta, fammi rileggere questo Il personaggio sta ripressionando salute d'armatura Grazie alla connessione con la sua anima gemella Il personaggio sta condivinando il 100% Della sua rigenerazione di salute Ed armatura con il personaggio Quindi questa la devo dare a me Non funzionava anche così Che stecca Guarda che giro sta facendo È passato in mezzo a tutto il fuoco A tutto quanto il fuoco Allora, questo fa 258 282 Non stai, faccio meglio A menarlo normale Ok Ah, sei venuto qui A farti pietrificare Ah, lo potevo trasformare in gallina Lo posso ancora fare Non lo posso fare Qua possiamo evocare Una bella cicciottina di sangue Qua possiamo evocare Qua zuzionare in gallina Qua si può evocare Vorrei sapere perché non l'ha colpito Chi lo rivedrà Sicuramente vedrà Qualcosa che è stato spostato Di un millimetro e quindi niente Datemi di fuoco Cavolo ha tirato la scossa a lui Percorso interrotto Che l'hai sentito? Sacrifica la costituzione per avere un altro punto Merda Ops, è stato ammaliato Bello Questo chi è? Red Prince Dovrebbe ammazzar Ok 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 Ah, questi lo aggrati tutti. Fermi. Che ti dico? Volevo rischiare di curare quello lì. Tutto sto bruciando, sti cavolo di Magister. Oh, siamo al 13 anche noi. Siamo al 13. Quanto costa il volo? Uno. E anche tutti questi qua sono aggrati. Ah, ma te ne vai, scommetto. Non ti ha tirato. Non riesce a vedere il bersaglio. Effettivamente è molto... È molto bloccato lui. Sì. 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 Oh no, c'è del sangue lì. D'agg Gazzust Sì No ma perché da quattro turni Madonna santa Queste cose sono idiote Cioè era qui Era letteralmente qui E arriva in subito Signor Magister Oh applicare sanguinamento direttamente Sì 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 Pensavo che schivavi meglio se birla Vabbè questo va giù Vabbè questo Sicuramente era carino se uno utilizzava la spell che diceva La formula magica e ammazzavi direttamente